Wedding Live, la notte da sogno e io sono con Giovanni Raspante, flower di nota fama nazionale ed internazionale. Ormai hai calcato veramente le scene del... un po' di tutto il mondo, Giovanni. E questa sera ti troviamo qui a questo magico evento, Wedding Night. Cosa ne pensi? Una tua idea, una tua ispirazione su questo evento? L'evento è decisamente riuscito, bellissimo, bellissima gente. La possibilità di incontrare noi che lavoriamo nel settore in una serata dedicata a noi, insomma, è sempre molto piacevole e molto bello. La serata è riuscita, non fa nemmeno freddo nonostante il posto e il posto è incantevole. Io non lo conoscevo, mi piace tantissimo il gusto e il contrasto dei caratteri che sono stati scelti appositamente per questo posto. Quindi, scenografie floreali, c'è da divertirsi. Ecco, parliamo di questo. Siamo in una tenuta veramente spettacolare, avrete modo anche di divisionarla. Immensa, con ampi spazi, con più location all'interno di una stessa location, un imperiale roseto conosciuto a livello europeo. Quindi, per un artista del tuo calibro, come immagineresti questo luogo e in quante varianti? Proprio il carattere che è in contrasto negli ambienti, a parte le aree sia esterne che interne che sono molto particolari, ma gli spazi grandi che poi, ad esempio, nelle location di Roma a volte mancano, ci permettono di creare ambiziosi tavoli imperiali con scenografie molto importanti, ma anche gli ancoraggi. Io, naturalmente, per deformazione professionale, noto la potenzialità di quello che può essere una scenografia floreale. E ci sono dei soffitti con delle travi che permettono di creare questi giardini pensili che adesso vanno tantissimo. Per loro, a me se ti interrompo, parliamo agli sposi, quindi noi chiaramente ci conosciamo, usiamo magari un linguaggio un pochino più tecnico, però parliamo agli sposi. Tu hai detto una parola interessante, ancoraggi, quindi c'è la possibilità sostanzialmente, lo dico in parole molto povere, di attaccare degli elementi giusto al soffitto per creare delle scenografie. Quante tipologie ti potresti sbizzarrire qua, davvero, no? Decisamente. Diciamo che l'effetto aereo leggero è qualcosa che negli ultimi tempi è molto richiesto, proprio per questa sensazione di portare la natura all'interno di ambienti. Quindi la natura naturalmente non cresce come a volte noi umani la interpretiamo, cresce ovunque e come vuole lei. E quindi gli ancoraggi, le cadute, i fiori che in qualche modo hanno quella sensazione proprio di giardini naturali, sono sicuramente le tendenze degli ultimi tempi. E questa location si presta tantissimo. Lo permette molto. Allora io ti ringrazio. Dove ti troviamo sul web, Giovanni? Sul web c'è la mia pagina Instagram, Giovanni Raspante e Stilosofie, e poi Giovanni Raspante su Facebook, naturalmente. Il sito è www.stilosofie.com E questo è www.stilosofie.com che noi vi invitiamo a visitare per ammirare le magiche scenografie e i sogni creati ad arte da Giovanni Raspante.